Benvenuti su Matteo Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 28 marzo. La perturbazione giunta nella giornata di un uri di sta lasciando all'Italia la sua coda lambisce solo l'estrema regione meridionale, mentre sul centro nord dell'Italia si allunga l'anticiclone dell'Azore, quindi bel tempo su quasi tutta l'Italia, parte un po' dei nubi sulle estreme regioni meridionali, qualche rovescio su Salento, Calabria Ionica e Sicilia orientale. Le temperature di notte saranno ancora un po' fresche, sensazione tra i 7-8 gradi sul nord Italia, invece temperature gradevole sul resto d'Italia massime intorno 12-15 gradi su tutta la penisola in rialzo di 1-2 gradi rispetto al giorno precedente. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.